Prendete una bella tiana, fate arruscare aglio, olio e peperoncino, menate le cozze che Accumigliate il cocco vecchio e aspettate che si arrapano Dopo una bella manata di bruttosino, aspettate che si raffreddano un po' Se no vi scaurate le mani, le dividete Scorzate una parte, le cozze che da un'altra Qualcuno rimanete l'intera E filtrate l'acquiccia, la cosa più saporita Aspartate, una tiana un po' più grande Fate a voto aglio, olio e peperoncino Menate i fagioli dentro e due o tre nodi più pummarulelle Chiano piano allungate con l'acqua delle cozze che I fagioli si devono sfrandumare tutti quando venite tipo una crema Accumigliate sempre con un gopecchio Quando si è formata una bella crema così Aggiungete tutta l'acquiccia delle cozze E menate anche la pasta La dovete far fare lenta lenta con un bicchiere d'acqua Solo quando si è ammusciata Alla fine menate anche le cozze Una bella frangatella di vasnicola E ammiscate bene bene Si deve amalgamare tutto il sistema ortopedico Nel piatto come decoramento Qualche cozza coolla scorza È facile, veloce e saporita È come sempre Buon appetito Vendete una bella tiana Fate arruscare aglio, olio e peperoncino E menate le cozze che Accumigliate il cocco vecchio Aspettate che si arrapano Dopo una bella manata di bruttosino Aspettate che si raffreddano un po' Se no vi scaurate le mani Le dividete Scorzate una parte le cozze che da un'altra Qualcuno rimanete l'intera E filtrate l'acquiccia La cosa più saporita La sparta Con una tiana un po' più grande Fate avuto aglio, olio e peperoncino Menate i fagioli dentro E due o tre nodi più pummarulelle Che hanno allungato con l'acqua delle cozze Che i fagioli si devono sfrandumare Tutti quando venite tipo una crema Accumigliate sempre con un coperchio Quando si è formata una bella crema così Aggiungete tutto l'acquiccia delle cozze E menate anche la pasta La dovete far fare lenta lenta Con un bicchiere d'acqua Solo quando si è musciata Alla fine menate anche le cozze Una bella frangatella di Vasnicola Le ammiscate bene bene Si deve amalgamare tutto il sistema ortopedico Nel piatto come decoramento Qualche cozze con la scorza E' facile, veloce e saporire E come sempre Buon appetito